L'estate dovrebbe essere fatta di leggerezza e stamattina invece per Pistole è stato un brutto risveglio nell'aver letto che la Fondazione Marino Marini a ottobre porterà le opere a Firenze. Così Marco Leporatti, presidente del Comitato Nessuno Tocchi Marino, nato dopo la chiusura del Museo di Palazzo del Tao nel 2019, ha commentato la notizia del trasferimento delle opere di proprietà della Fondazione Fiorentina intitolata Marino Marini nel Museo del Capoluogo Toscano. Una evoluzione sulla vicenda al centro da anni del dibattito culturale e politico della città che al momento il sindaco di Pistole Alessandro Tomasi non ha voluto commentare. Nella lista delle opere che saranno spostate a Firenze figurano bronzi di Marino ospitati nell'ex chiesa del Tao come Il Cavaliere, Il Grande Grido, la versione del 1953 di Il Miracolo. Il trasferimento sbloccato dal pronunciamento del Consiglio di Stato che ha eliminato il vincolo delle opere a Pistoia dovrebbe avvenire alla fine del mese di ottobre. Sembrano quindi sfumare le proposte avanzate per dare una soluzione locale alla vicenda, ovvero l'offerta della Fondazione Caripit di ospitare temporaneamente le opere di Marini presso i propri spazi in attesa dei lavori al complesso di San Lorenzo che come aveva proposto il Comune sarebbe potuto diventare la nuova casa pistoiese del Museo Marini. Cosa possiamo fare noi? Possiamo sperare che davanti a queste scelte la coscienza collettiva della nostra città si risvegli. Il Comitato a ottobre vuole fare intanto una festa di ringraziamento e di riconoscenza per Marino Marini. Da qui si spera che le varie coscienze a più livelli politici ma anche del cittadino che ha usufruito del museo negli anni si risveglino.